itale finalmente è tornato salve a tutti blazers e benvenuti questo nuovo video dedicato alle news di itale fa quasi strano dire una cosa del genere dato che di news ne mancavano da un anno era il 22 luglio del 2022 quando questo blog post uscì blog post che fu l'ultima grande notizia rilasciata per itale per poi imbarcarci in un anno di silenzio con questa bella foto del team messo al lavoro team che si è aggiornato e poi vedremo una foto nuova con tante bellissime speranze speranze però disilluse da un'attesa lunghissima tant'è che io settimana scorsa ho fatto un video per fare il punto della situazione capire che fine avesse fatto itale e anche per dirvi le news arrivate nel corso di un anno e apro parentesi non ripeterò quanto detto nell'ultimo video ve lo lascio allencato nelle schede se volete recuperatelo questo video sarà un seguito diretto del precedente il meme alla fine si è compiuto dopo che ho fatto il video ovviamente stavano aspettando solamente me come al solito dopo che ho fatto il video a soli due giorni di distanza è uscito il nuovo blog post 27 giugno 2023 ecco il nuovo blog post ragazzi non ci credo ho atteso un anno faccio il video per dire che fine ha fatto itale e due giorni dopo escono le notizie che meme incredibile e quindi andiamo a vedere questo blog post per vedere le ultime news ma prima ragazzi supportate il video con un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi nessuna news di minecraft ma anche di itale se vi interessa ancora questo progetto che un giorno sicuramente porteremo sul canale summer 2023 update l'aggiornamento dall'estate 2023 e ragazzi metto subito le mani avanti questo aggiornamento non è paragonabile a quello dell'anno scorso ed è molto generico è un blog post un po' un dev diaries se siete abituati a seguire gli sviluppi dei videogiochi è un po' un muro di testo non aspettatevi un granché si divide in due parti una parte dove ci parla noxi ovvero il CEO del team di ipixel studios e una seconda parte dove ci parla john hendrix ovvero il game director di itale una figura che apparentemente nel team da poco tempo e che ci presentano tramite questo post difficile credere che sia un anno dall'ultimo update invece è proprio così anche se siamo stati molto silenziosi hanno lavorato molto sotto traccia dicono siamo stati comunque allo stesso tempo molto occupati e molto produttivi in questi ultimi 12 mesi insomma anche se sono passati 12 mesi di silenzio loro hanno lavorato e probabilmente è stato un anno dove hanno lavorato molto più rispetto ad anni dove con i blog post ci mostravano un sacco di cose quindi non è che le immagini e le notizie che escono dal team siano lo specchio del lavoro che viene fatto anzi di solito più si sta in silenzio più si lavora concentrati la prima parte del blog post se ne va con ringraziamenti alla community questa è una piccola targhetta che gli hanno fatto avere alcuni creator collegati alla community di itale si va con un po' un piccolo recap e anche la notizia se vi interessa che il team che era inizialmente di 40 persone è cresciuto fino a 110 persone il team si allarga e se un team si allarga e tra l'altro assume perché qui hanno aperto ancora le assunzioni è perché il progetto è vivo ci credono e cercano anche il nuovo personale per lavorarci quindi sicuramente itale non è morto questo possiamo darlo per assodato in questa immagine invece possiamo vedere il team di sviluppo così come è ora il team si è evidentemente allargato e peraltro non sono neanche tutti apparentemente ma è successo che il team si sia incontrato a los angeles con quelli di riot vi ricordo che la riot ha acquistato il team di itale e quindi ora fa parte del suo comparto di videogiochi cosa interessante di questa immagine è che se notate alcuni di loro al collo hanno appeso una sorta di pass e quel pass potrebbe essere lo stesso che abbiamo visto settimana scorsa con la dicitura dell'icon 2023 in quel caso sarebbe una brutta notizia per noi perché l'evento icon 2023 non sarebbe un evento da dare al pubblico ma un evento chiuso che si è già tenuto in cui semplicemente si sono riuniti i programmatori gli sviluppatori del gioco il post poi prosegue e mi voglio soffermare su questa immagine immagine molto suggestiva di un ambiente desertico dove vediamo il personaggio del gioco intento a sfidare un dungeon un dungeon di quelli dove stavano quegli strani insettoidi giganti che avevamo visto nei video ormai anni fa sulla roccia c'è un personaggio della razza dei feran che saranno una delle civiltà diciamo di npc che abitano al mondo di itale ma cosa c'è di interessante in questa immagine il fatto che è un artwork perché in questo blog post ci sono solamente artwork ma come dopo tutto questo tempo abbiamo solamente degli artwork e neanche uno screenshot del gioco lo so che è triste però pensiamola dall'altro punto di vista fare uno screenshot è molto semplice non ci vuole niente a fare uno screenshot un artwork invece richiede molte ore di lavoro almeno ore di lavoro quindi perché ci mostrano degli artwork e non degli screenshot perché non vogliono mostrarci il gioco stanno tenendo in serbo qualcosa è una scelta voluta il silenzio di un anno e il fatto di non voler mostrare immagini il motivo per cui lo stanno facendo potrebbe essere calare l'hype e calare le attenzioni sul progetto in modo da lavorare in maniera più easy più tranquilla oppure perché si stanno tenendo pronti per magari il giorno in cui rilasceranno un trailer e ci faranno vedere il gioco completamente rivoluzionato e quindi passiamo alla seconda parte del blog post dove si parla anche di questo al di là delle concept art si parla del fatto che ogni singolo aspetto di itel è stato riesplorato la prossima volta che vedrete orbis che è il mondo di gioco potete aspettarvi di sentirvi di sentire familiarità in molti modi quindi vedremo cose che avevamo visto in passato e che ci ricordiamo ma anche cose nuove quindi ci sentiremo percepiremo qualcosa di diverso in altri aspetti e questo proprio perché il gioco in questo periodo di silenzio si sta rivoluzionando stanno riesaminando tutti gli aspetti del gioco per migliorarli laddove possibile e questo avviene anche tramite l'update del motore di gioco che hanno annunciato l'anno scorso che era probabilmente già in lavorazione da un po' e che continua apparentemente a gonfie vele ma ora veniamo al succo del discorso perché all'interno di questo muro di testo c'è una notizia davvero importante potrebbe sembrare che non ci siano progressi ma un piccolo progresso e importante progresso c'è stato ne parlano infatti qui il primo playtest è stato eseguito cosa vuol dire? vuol dire che itail entra di fatto in una fase di closet alpha quindi quando sviluppano un gioco ma non solo abbiamo la versione alpha, le versioni beta e poi il rilascio del gioco e prima della beta ci può essere la closet beta quindi non è aperta al pubblico ma è chiusa a un numero limitato di partecipanti e allo stesso modo l'alpha e in particolare in questo caso hanno fatto provare i duelli e i deathmatch quindi il pvp del gioco è stato testato per la prima volta da persone esterne dal team ed è una grande notizia perché è la prima volta che una feature va a finire in test con persone esterne è l'inizio di una nuova fase dello sviluppo cosa simpatica pare che durante il test questi tester oltre ad aver duellato hanno cercato di superare i limiti dell'arena alleandosi tra loro per cercare di spingere un personaggio oltre l'arena e vedere cosa si nascondeva fuori ovviamente internamente al team stanno testando tutte le loro cose come viene detto qui ma chiaramente quello penso lo facessero già la prima e sono pronti perché il prossimo big step sarà un'altra ondata di feature pronte per altri test quindi sicuramente non aspettiamoci che il gioco ora sia pronto al lancio tra pochissimo perché non è così ma sicuramente è interessante il fatto che alcuni aspetti del gioco sono pronti ai test quindi sono in una fase finalmente avanzata del loro sviluppo il blog post poi si chiude con quest'ultimo artwork di un membro dei Ferran che abbiamo visto nell'immagine precedente vestito pesante questo per dire che gli abitanti del mondo di Orbis non saranno legati per forza un bioma ma potrebbero esistere varie varianti delle civiltà che abitano altri biomi che vabbè è una notizia marginale che però ce la vogliono lasciare qui e questo è praticamente tutto possiamo vedere che gli ultimi blog post sono usciti a novembre del 2021 luglio 2022 e giugno 2023 quindi il prossimo non aspettatevelo tanto presto potrebbe uscire l'anno prossimo direttamente ora lo so che la fiducia verso questo gioco è sempre meno l'hype è sempre meno però prendiamo atto del fatto che lo sviluppo continua il gioco è vivo si sta ampliando e tutto ciò è sintomo di un ottimo stato di salute ci vorrà ancora tanto tempo ma sono sicuro che quando uscirà questo gioco sarà qualcosa di cui parleremo e che potremo giocare e finalmente goderci anche se lo attendiamo dal 2018 ma come sempre sono curioso di sapere la vostra nei commenti fatemi sapere ovviamente noi ci vediamo domani con un nuovo video e stasera è live alle 20.30 con una nuova live un saluto da Eren ciao a tutti